Buongiorno signori, oggi vi presento un'artista emergente, origine neozelandesi, signori e signori, Alba Trapanese. Mami! Questa è la sua prima opera d'esordio, vediamo un uso del colore, dei complementari, un verde che si associa a questo viola con il giallo, c'è un'impronta, la sua impronta, della mano di una firma, non è le poche opere firmate perché come potete vedere le altre non sono firmate. Qui c'è un astrattismo, un post impressionismo e questa è la sua opera, l'ultima, così, astratta. Cosa vuole dire rispetto a quest'opera? Adesso la modificherà live, prego, prego. Aggiunga qualcosa, prego, vai, col dito, l'altro, l'altro, Alba, vai, dito.